Sono arrivati a terra. Vieni in marina e giri il mondo. No, no, quello è il motto della marina degli Stati Uniti, non della SPS, non ce lo rubate. Sicuro? Sicurissimo. 3, 2, 1. Timer pompa automatica in pausa tra 20 secondi. 15, 3, 5, 4, 3. Si è fermata. Il raccordo è a 500 metri da voi, poi un chilometro e 200 metri in linea retta fino all'obiettivo. Sono 20 minuti a nuoto per andare e 20 per tornare. Comunicazione ok, localizzazione ok. Ricevuto, confermo. E se non escono prima che si attivi la pompa? La corrente li spingerà verso questo giunto dove saranno fatti a pezzi dalla pompa di aspirazione. Bel problema. Proprio così. Mi stiamo sentendo. Scusate ragazzi, tutto bene. Ok, siamo a raccordo. Ora voltiamo verso sud. Martin, sei dietro di me? Qui, 1, 2, sono dietro di te. Chiedo verifica riserva a ossigeno. I miei indicatori sono impazziti. Qualcosa non funziona. Ti resta il 50% d'aria. Ricevo tu. Confermo. Ora sono al 45%. Scende troppo in fredda. Deve esserci qualcosa di caustico nell'acqua che corrode le guarnizioni. Perché non ce l'hanno segnalato? Come questa grata che nella mappa non c'era. Sono fermi. Stratton? Le informazioni sulla missione erano una serie di stronzate. Nel sistema non c'è niente. Aspetta! Marty ha finito l'aria. La popola è vuota. Ripeto. 1, 2, ha finito l'aria. È passato alla riserva. Ne avrà solo per due minuti. E non so quanta ne resta a me. Finita! 1, 1, mi senti? Ripeto. Qui 0. 1, 1, mi senti? Lo stanno nuotando in apnea. Sì, ma ce la faranno. Mancano ancora 300 metri. Merda. Si sono riattivate le pompe. Andiamo, andiamo. Zero, siamo dentro. Ottimo. Aghi, a ritorno andiamo via a terra. Non abbiamo aria. Ricevuto. Nuova estrazione in sito 2. Aghi, non dovevano esserci delle guardie. Le foto satellitari degli ultimi dieci giorni erano sempre almeno quindici. Nemmeno una. Oh, sono molto, molto piccole. Zero, cariche pronte. Ricevuto, uscite. Mandiamo l'elicottero al sito 2. Dovete arrivare all'uscita posteriore passando per il laboratorio. Cambiate destinazione sul sito 2. Ricevuto. Dove sono gli impiegati? Perché non c'è nessuno? Non ha alcun senso. Uno, uno, Quentin Man, in arrivo fra cinque minuti. Che succede? È ancora caldo. Morti da circa mezz'ora. Oh, cazzo. Acchi, stai guardando? È il deposito biochimico. Era il deposito. Ora è una scena del crimine di proporzioni bibliche e noi ci siamo in mezzo. È tardi. L'hanno svuotato. Merita. Che stai pensando? Sto pensando che adesso le uniche persone di cui possiamo fidarci siamo noi due. Mi piace. Aghi, nuovo cambio, sito di estrazione. Sito 2 negativo. Ma la squadra sta arrivando sul sito 2. Non se ne parla. Non sappiamo che cosa ci aspetta. Estrazione su di lui. Negativo, lo spazio aereo iraniano è interdetto. No, zero. Non abbiamo scelta. Mandami quel chopper. Aspetta, ci serve l'autorizzazione. Negativo. Non c'è tempo, ubbidisci. Ricevuto. L'estrazione è su di lui. Team Man parla zero. Caccellare sito 2. L'estrazione adesso è su 1-1. Confermare, passo. Ricevuto. L'estrazione adesso è su 1-1. Chiudo. Ora siamo in una zona calda. Sei d'accordo con me? Sì. Ora. Contatto! A riparo! Attento! Attivo le cariche! Via! Sento! Cambio caricatore! Colpito! Colpito! Entra! Dai! Via! Andiamo! Accelera! A sinistra, a sinistra! E andiamo! Andiamo, ce n'è da qui! Non vedo l'uscita! Contatto interrotto! Uno, due è ferito alla gamba! Ripeto! Uno, due è ferito alla gamba! La strada finisce! Forza, forza! Li abbiamo cerchiati! Non ando via di spesso! Non provo i morti! Dov'è, Timman? A un minuto da voi! Uno, uno, qui Timman, vi vedo! Arrivando uno! Sono arrivato! Dai giù! Sono bloccati! Granato! Addio! Mi compro! Mi compro! Ando via per il condivino! Uno, due è stato costato! Colpito! Colpito al tollo! Premi forte! Premi forte! Tieni la testa su! Uno è ferito! Senti, andiamo! Huggy, dov'è quel chopper del cazzo? A 30 secondi! Resistete! Forza! Resisti! Andiamo! Resisti! Andiamo! Ti copro io! Mi prenda! Saltate su! Coraggio! Coprici! Salite! Salite! Dov'è il medico? Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! Svegliati! 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 Andiamo, Marty! Svegliati! Svegliati! Coraggio dai, Marty! Svegliati! 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 Sauусовana! Insze! Svegliati! Mauro! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao. 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 Spinks e da Sumner Io indago su dove sia la fuga di notizie Comunicazioni, microspie, organizzazione del piano Quegli uomini Sapevano che arrivavano Ferma, vai indietro Che c'è? Li comandava lui È troppo sfocato Se per il riconoscimento visivo non serve Prova con un altro frame O prova a pulire questo Sarei più veloce senza il vostro fiato sul collo Sarei più veloce Dovevi tornare a casa E lasciare a te lo spasso Almeno per la nascita Lei è Stratton? Devi essere il sostituto di Martin Non si può sostituire Ho visto il tuo profilo È notevole Grazie Mi hanno parlato di lei, signore Non chiamarmi signore Mi chiamano tutti Stratton Hai fatto due missioni in Afghanistan A Pakurgar con il Mako 30 Pericoloso È stato interessante Marty era il tuo comandante? Sì, signore Eri suo amico? Sì, molto Ero inesperto e Marty mi ha salvato il culo più volte Eravamo quasi sempre insieme Era un bravo uomo Sì, bravissimo Ho letto che hai Rifiutato tre incarichi e una promozione per questo posto Posso chiederti perché? Si va dove si pensa di fare più del bene, giusto? Se scopro che sei venuto per vendicarti di Marty Ti rimando a calci in culo negli Stati Uniti Non posso dimenticare Non me ne frega un cazzo Se la mente non resta concentrata sul presente Sei un rischio Non mi prenderò una pallottola perché sei incazzato per Marty Sono stato chiaro? Chiarissimo Chiamata dell'MI6 Il sottoufficiale Monroe? Sì Benvenuto nell'SBS Starai con il sergente Stratton Fossi in te mi cambierei C'è una quantità sconosciuta di un agente biochimico Chiamato Neve di Satana In mano a un gruppo di terroristi È uno dei patogeni aerei più potenti Di cui siamo a conoscenza Che sappiamo? Nessun gruppo terroristico ha rivendicato Suppongo preferiscano farci subire le conseguenze E gli iraniani non danno informazioni che possano scagionarci Proviamo a identificare quell'uomo che ci ha segnalato il sergente Stratton Uomo caucasico di circa 50 anni Sembrava diverso Dava ordini e controllava lo scontro Abbiamo provato con i database senza risultati Si chiama Gregor Barovski, servizi russi È specializzato in controspionaggio in Europa Ed è responsabile della morte di nove agenti dell'MI6 L'uomo più pericoloso che io conosca Con quel curriculum, perché non è saltato fuori dagli archivi? Perché è un ex agente Era dato per morto da vent'anni Se Barovski è vivo Stratton, Cummings, con me Visto che Barovski era una forza distruttiva E una stella nascente dei servizi russi L'MI6 ha inviato una squadra per eliminarlo Nel 95 abbiamo organizzato un'operazione Per farlo accusare di doppio gioco E ha funzionato Abbiamo messo i russi contro il loro migliore agente Poi da informazioni ricevute Abbiamo saputo che era stato ucciso dai suoi È stato creduto morto per vent'anni Barovski è un uomo realmente pericoloso E pieno di risorse Con questa fuga di notizie È necessario agire in fretta Io terrò i contatti con l'Interpol Stratton guiderà le operazioni L'MI6 si occuperà di chi può comprare o usare il gas E farà da supporto Supporto? Scusi, da quando le forze speciali decidono per l'MI6? Cerchiamo di mettere da parte l'ego O Barovski ci mangerà vivi Sì, signora Scusi, da quando le forze speciali La zona industriale vicina è stata evacuata questa mattina dalle autorità Finora le vittime accertate sono almeno 148 Anche se il governo ucraino... Neve di Satana È solo una prova a livello del mare Solo? Questo gas sarin è progettato per un uso ad alta quota Diciamo a 300 metri Che copre un'area cento volte superiore a questo villaggio Più che una dimostrazione per vendere il gas Sembra un test primitivo per deriderci Per usarlo realmente hanno bisogno di una tecnologia molto complessa Conosciamo solo due esperti di bombe Capaci di armare questa sostanza Adna Omsi La sua ultima localizzazione è a D'Aleppo Ma Barovski non rischierebbe di entrare in una zona di guerra E Tariq Alawi Secondo l'Interpol si trova a Roma Ma questa foto ha qualche anno Da allora nessuno l'ha più vista L'MI5 riferisce che in passato ha lavorato con il KGB Tutte le strade portano a Roma Io andrei lì Esatto È la scelta più giusta È lui Sì, ora lo vedo Il nostro uomo più uno A 50 metri Alawi più guardia del corpo Lo vedo Andiamo Ti va di andare su da me? Sì 40 metri Arrivano a passo lento Abita proprio qui vicino, lo sai? Vai, Yank Entra Tariq Alawi Solo Alawi senza nome Te lo do io un nome Asht Bundy Sì, allora? La versione della CNN è che gli inglesi hanno distrutto per caso un'azienda farmaceutica iraniana Non senza l'approvazione degli americani Non mi frega un cazzo della politica Tu e io sappiamo bene che cosa c'era Non la ricerca sul cancro? Gas Sarin Neve di Satana Entrambi sappiamo che non è andato distrutto L'hanno rubato e portato via dall'Iran Senti, la mia idea è questa Se volevate arrestarmi a quest'ora sarei già su un aereo verso una cella americana dove mi avrebbero torturato con l'acqua Ma sono qui, quindi perché non vai subito al punto? Voglio informazioni Ti hanno contattato per costruire un'arma biologica Ok, non voglio prenderti in giro Io so chi sei, tu sai che faccio Costruisco armi per molta gente Gente che vuole far saltare le sue aziende, le sue barche o le mogli Forse per l'assicurazione O terroristi per uccidere chiunque vogliano Sì, un mio cliente mi ha assunto per fare un congegno di diffusione Un congegno di diffusione? Da liquido a vapore, molto leggero Ti ha detto a che serviva? Dove o quando? Una cosa tipo non andare in quel posto in quel giorno e a quell'ora? No Lui paga, io faccio Chi muore non è un mio problema Sei responsabile della morte di migliaia di persone E sarai responsabile per quella di centinaia di migliaia Non sono diverso da te Solo non fingo di farlo per una buona causa Li sta riprendendo un mio collega È un cecchino della Marina degli Stati Uniti Certo, non posso dirti il suo nome Ma sappi che è stato il miglior tiratore della sua unità per cinque anni di fila Oltre alla telecamera ha un fucile Semi-automatico a recupero di gas Concepito per cartuccia è nato 7,26x51 mm A 600 metri non può sbagliare Ti somiglia molto Quanto ha Cinque Sei anni Inizieremo con lui No Il primo è il ragazzo No Ricciuto No, vi prego Vi prego, non mio figlio Vi prego Hai l'obiettivo in vista? Ho campo libero Ok Un uomo che costruisce droni Al mio comando Ok, ok Greco È lui il vostro uomo È rosso, ma usa un nome locale Fa cose soprattutto per dentisti, trapani Dove vive? Ha un laboratorio al di là del Tever Non so altro, giuro, non so altro, vi prego Perché non parli con tuo figlio e gli dici che stai bene? Fayed, figlio mio Meglio di no Scegli un numero da uno a tre Due Esatto Uno Greco? Greco Allora come funziona con Stratton? Che vuoi dire? Ci hai già lavorato insieme Che tipo è? Ci ho lavorato due volte, inclusa Nagur Ma è riservato, credo Non dice mai a nessuno quello che pensa Riservato Riservato Marty non l'ha mai descritto così Conoscevi Marty? Sì Lo conoscevo Lui e Stratton erano uniti Marty non l'avrebbe mai seguito se non si fosse fidato Aveva il fiuto di un cane da caccia Sapeva se avevi ragione o no Non è responsabile della sua morte se è quello che insimi Scusa Non volevo insinuare niente Sì, Greco abita qui All'Attico Qui siamo esposti Entriamo dal retro Andiamo Sì, Greco abita qui Greco sta tornando Sta entrando nell'edificio e ha con lui due uomini Lo vedo anch'io Ha dei gorilla Quindi aspetta qualcuno Stratton Sì, sì Svelti, uscite Andiamo 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 Mentre aspettiamo Guardiamo la partita È di una macchinetta Non ho trovato altro Grazie Attenti Forse è lui Troppo lontano per capire No, deve essere lui È Barofsky Dobbiamo prenderlo Dobbiamo prenderlo ora Senza il gas Non ci serve Accomodati Fa come fossi a casa tua Sei il benvenuto Hai portato a casa tua Hai portato degli amici Abbiamo un concetto diverso di fiducia No, è solo una precauzione Sono sicuro Sono sicuro che puoi capire Sono sicuro che puoi capire Lo sai Gregor Nessun altro avrebbe potuto farti questo lavoro come me Mi sono impegnato molto su quei droni E voglio essere sicuro D'avere la giusta ricompensa Questa è il triangolo Con un compagno Che si indica la sua cassa Amici è venuto Alberto Sembra la volta Sembra luce Tra un paio Infende Che non ottengono alcuni Sul fatto Il pallone è ancora Tra i piedi del brasiliano Circolato dagli azzurri Ma è la triangolazione Del brasiliano Per tutto Non tenere Il processo Nel clube Sfiacciando la nazionale italiana Nel progetto 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 L'ha trovata Merda Il quale fa partire Un diagonale Che insatta Allo spalle Il brasiliano Abbrunce In un momento Apparentemente Di calma Chi stava guardando Io non so Di che cosa Stai parlando Allora Chi stava guardando Che stai facendo Perché mi spari Che diavolo ti prende Non l'ho detto a nessuno Non ti tradirei mai Gregor Ti prego Che dolore Senti guarda Provo quel drone del cazzo E poi Vattene via Non voglio avere problemi Ti prego Gregor Ti prego Da coraggio No 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 Gra Gregor No Oh Gregor J filming Grazie a tutti. Che cosa sta cercando noi? Che cosa sta cercando noi? Non possiamo rimanere qui, dobbiamo andare a prenderlo. Non abbiamo abbastanza uomini, ci servono rinforzi. Lo seguiamo verso il gas e poi lo prendiamo. Aghi, chiedi dei rinforzi. Aspetta, aspetta! Cambio caricatore! Aghi, blocca il furgone! Merda! Dentro! Dai! Grazie! Grazie! Grazie a tutti. 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 Il drone trovato a casa di Greco? Dagli indizi sembra che il drone recuperato sia uno di quattro costruiti per lui. Credo che Barowski abbia gli altri tre e il gas. L'obiettivo? Finché non crackiamo il modulo di guida del drone recuperato, non lo sapremo. Questo presumendo che i quattro droni abbiano lo stesso obiettivo. Sì, esatto. Ho riletto il profilo di Barowski. C'è un nome. non ringrazie a tutti. Per farlo ci serve aiuto. Per farlo ci serve aiuto. poi si mette in proprio e prende il gas per usarlo. Andiamo, strato. Andiamo, strato. Ero un agente alle prime armi quando i miei superiori mi chiesero di unirmi all'operazione per screditare Barowski. Andai al Cairo. Mi misi in contatto con lui e lo convinsi che avrei tradito. Per cinque mesi gli ho dato false informazioni sui servizi, mentre lui mi controllava per cercare di capire se mentivo. Siamo diventati amanti. Credo di averlo sedotto conquistando la sua fiducia. E poi, secondo gli ordini, l'ho incastrato per doppio gioco. Sono informazioni riservate. Vuole colpire il suo vecchio capo? Oh... Forse potrei ancora amarlo. Ho lavorato con lui dall'interno. Stratton, lei è il mio agente migliore. Scoprirà qual è delle due. Che cosa fai? Immagino che dopo Roma verrò esonerato. Mi stavo solo avvantaggiando. Sei sotto il mio comando fino al nuovo ordine. Senti, mi hai dato un'occasione e ho fallito. Ho messo a rischio te e la squadra e sono morte troppe persone. Sono sorpreso di non essere stato incriminato per... Scusa? Andiamo. È qui. Senti, non ho capito perché vuoi ricostruire il motore di una barca che probabilmente andrà in pezzi per le vibrazioni appena lo mette in moto. Perché è naturale che una barca navighi. Ah, lui è il nuovo Yankee. Eh, lui è rosso. È un piacere, signore. Chiamami, signore, quando sarò baronetto. Dicono che accadrà a giorni. Sai qualcosa della vita sull'acqua? Eh, che è un nevisil. Gli ho chiesto se sa qualcosa della vita sull'acqua. Che mi importa se lui sa stare sotto l'acqua? Per tutta la vita l'ho evitato. Non capisco il fascino. Beh, ecco, i miei hanno 10 metri nel porto di Manteo. Da piccolo ci passavo tutta l'estate. Oh, accidenti, sono colpito. Un 10 metri, hai detto? Sì. Era anche arredata, eh? Tendine, color azzurro e avorio, con un tema nautico scelto dalla mamma. Una bella barchetta per tutta la famiglia, eh? Sì. Beh, scusami, ma io odio la Via Ambrose. Da qua. Ti adoro. Grazie. Alla regina. Alla regina. Sai, ricordo benissimo quando ho conosciuto quel giovane Merluzzo. Non aveva più di 9 anni. Stava sempre vicino alla chiusa. Un giorno ho provato pietà per lui, perché avevo bisogno di una zavorra. I suoi sono morti quando era piccolo e l'hanno messo in un istituto a Londra. E gli avevano trovato una famiglia a cui affidarlo, ma in realtà è cresciuto qua giù, tra le barche, con... con questo relitto umano. La mia terza moglie, una vera puttana di Mumbai, lo ha preso subito in simpatia. Io pensavo che fosse un ragazzino troppo speciale per questa vita e l'ho messo a lavorare, a pulire tutto il pesce. Volevo scoraggiarlo, ma lui lo adorava. Cos'altro gli piaceva? Tutto. Soprattutto il mare. Svegliarmi prima del sole con un freddo tremendo, così bardato che non mi muovevo. Mi piacevano i vecchi marinai, le battotacce. Sono quelle persone di cui puoi sempre fidarti. Vuoi? Grazie. Spinks. Eccomi. Abbiamo iniziato a deciferare il modulo e i numeri potrebbero essere le coordinate di altitudine e direzione. Ma non quelle del GPS. No, purtroppo ancora no, ma conosciamo lo schema di volo di questo drone. Ed è probabile che gli altri tre abbiano moduli simili. Abbiamo gli schemi di volo, ma non latitudine e longitudine degli obiettivi. E senza queste coordinate specifiche non possiamo sapere da dove verranno lanciati. Possiamo distinguere un corso d'acqua qui, ma è tutto. Non c'è altro. Avete provato a ingrandire l'immagine? Così siamo già al massimo. L'abbiamo confrontata con città italiane, quelle con un fiume come Roma o Firenze, ma nessuna corrisponde, quindi è probabile... Che Barovski si stia spostando. Così veloce. Allora forse sa di noi. Ha i tre droni e i dispositivi. E tutto il tempo per trasportarli fuori dall'Italia. La strage compiuta in Ucraina è un'affermazione. Dopo tutti questi anni vuole vendicarsi e dice ai russi posso distruggervi. L'immagine potrebbe essere mosca. Voglio condividerla con i russi e chiedere il loro aiuto. Cummings, ricevuto il via libera da Downing Street e da Washington, se ne occuperà lei? Sì, certo. Speriamo che non sia troppo lontano. e non sia troppo lontano. Speriamo che non sia troppo lontano. Agente Cummings Lei sarà scioccato come è normale che sia Il suo referente Orloff è morto E ora è lei la mia talpa Il mio traditore dell'MI6 Nel caso non capisca il pericolo che corre Ho fatto un duplicato di questo documento E sono pronto a spedirlo al suo superiore Gisela Sumner Il suo compito è restituirmi il dispositivo Che i suoi colleghi mi hanno rubato a Roma Contiene un segreto che loro non devono scoprire Più a lungo resterà nella sua agenzia Più alto sarà il rischio per la mia missione Io avrò la mia vendetta E se lei farà come le dirò Potrei lasciarla vivere Ci sono messaggi? Sulla sua scrivania Grazie Buongiorno Posso? Ah, Cummings Il primo ministro e Washington si confronteranno Sulle indagini svolte col Cremlino Io e lei coordineremo Certo, sono a disposizione Ma penso di aver trovato quello che stava cercando Mi dia più dettagli, Cummings Riguarda la condivisione di informazioni con Mosca E la nostra collaborazione So che è una sua preoccupazione Quindi ho trovato questo È un giornalista americano che è stato rapito in Cecenia Ormai quasi un anno fa Thomas Miller Sì Credo che Mosca abbia negato di sapere dove sia prigioniero E ovviamente non ha senso Sono d'accordo Ottenerne il rilascio in cambio di informazioni Ci metterebbe in buona luce con gli americani E forse cancellerebbe parte dell'imbarazzo per il disastro in Iran Signora Lo considererei restituire un sequestrato alla sua famiglia Ma farei un tentativo Grazie, Cummings Grazie a lei C'è scritto che Miller pesava 81 chili Prima di essere rapito dai Ceceni Scommetto che ne ha persi tipo 8 o 9 durante la prigionia All'ambasciata lo aspetta un medico e del cibo Lo rimetteranno a nuovo Ecco Miller finalmente Ma che sta succedendo? Avete sparato? Ma che cazzo? Shaolin Credo che quel Kung Fu non sia servito a molto No, non potete farlo, no Spirito di collaborazione Sei stratton, vero? Sono Pavel Borodin Lui è l'agente Volkov Sono più interessato al signor Miller Se non ti dispiace Ma certo, capisco Hai il modulo? Sta un po' peggio del previsto Quei bastardi Ceceni Gli avranno voluto rovinare il ritorno a casa Quindi niente foto Signor Miller Lei è Thomas Miller Di Indianapolis, nell'Indiana La rimetteremo a nuovo in ambasciata I rapitori le hanno fatto questo? Sì, ma sto bene È il modulo del controllo del drone E i documenti su Gregor Barofsky È un uomo pericoloso Ma lo fermeremo Ora Merda L'operazione è andata a puttane Come ha fatto Barofsky a organizzare tutto questo? Non ne sono certo, ma ho un'idea Aghi, dammi Sumner su una linea sicura Stiamo tornando Vorrei ascoltare il suo pensiero, sergente Prima di tutto c'è l'imboscata a Ashtbandi Mi sembra chiaro che Barofsky sapeva del nostro arrivo E secondo lo scambio di ieri con i presunti agenti russi Qualcuno l'ha avvisato Erano due missioni top secret di massimo livello L'unico oltre a noi che le conosceva entrambe È l'agente Cummings E a conferma di questa ipotesi sul modulo del drone È stato sempre Cummings a sospendere la ricerca in quell'area La prima volta è stato ucciso Marty E ieri siamo stati fortunati che... Devo sottolineare quanto siano serie queste accuse? Di cosa parliamo, Stratton? Sappiamo che Barofsky è in possesso di quattro diffusori Ma ha solo tre droni La sua operazione di ieri ha significato tempo e sforzi Un impegno piuttosto grande per... Un modulo che non gli serve più In apparenza, sì Se un uomo come lui cerca di impedirci di darlo ai russi Deve avere un valore che non capiamo Tornate a lavorare sul modulo Fatelo a pezzi Trovate quello che ci manca Abbiamo già iniziato Stiamo caricando tutto il materiale Io mi occupo dell'agente Cummings Cummings è sparito I video di sicurezza lo mostrano mentre scappa E al cellulare aspetto Sarà andato da Barofsky Barofsky e i droni devono restare la priorità Sì, signora Haki, guarda qui Sono longitudine e latitudine Sono soltanto ruotate Sono invertite L'ha trovato Ci dà l'obiettivo Oh mio Dio Londra Passami Sumner Sono moduli di comando preprogrammati Una volta lanciato uno Non serve guida umana Quindi quando Barofsky lancia il primo drone Può sparire immediatamente Ha sempre puntato a Londra Foce del Tamizi o qualcosa La guardia costiera ha contattato una nave da trasporto Perché ha spento il segnale di localizzazione Sono saliti a bordo? No, il capitano ha provveduto subito Accusando un temporaneo problema elettrico Ma è stata comunque inviata un'unità Envy Buffy Strait Di base ad Amsterdam Localizzala e informa lo Special Boat Service Sembra che abbia il permesso di attraccare a Canary Wharf A East London Mandiamo rinforzi Manda le unità più vicine Fale coordinare con Stratton Qui Delfino 1 Attendete ordini Delfino 2 Confermate assalto a nave da bordo Delfino 1 e 3 Nostra priorità è occuparci dei tre droni con arma biochicca Impedire a RGX di lasciare aria nave con droni armati Qualunque danno a involucri droni causerà rilascio gas Se succede devono essere distrutti con vostro esplosivo low heat È l'unico modo per neutralizzare l'agente biochicico Vedo due droni Uno sul moto L'altro sulla gru Primo raggio X abbattuto Andiamo via Muoviamoci Altri due raggi X abbattuti a bordo Fai fretta Morovsky Ce l'ho in vista Mitraiere RGX abbattuto Perfetto Scrappare Perfetto Perfetto Vissi Perfetto Confermare Capso Perfetto 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 Grazie a tutti. Andiamo, forza! Marca 2 affondata! Merda! Salta su! Marca 2 affondata! Accelera! Bastarda! Il ponte si sta chiudendo! Troppo tardi! Non ho visuale su Barovski! C'è il drone in mezzo! Ponte del cazzo! Barovski ci è sfuggito! Zero, voglio subito un veicolo al Molo Sarri! Continuiamo a cercarlo via terra! Tutti i veicoli convergato al posto! Sono dei feriti! I terroristi sono stati neutralizzati! Resta un'imbarcazione in fuga! Andiamo! Ciao, Eki! Come va tesoro? Parti! Avanti! Lo sai che Barovski è finito? Finché puoi dovresti scappare! Eki, ascolta bene! Non volevo arrivare a questo! Non dovevo andare in questo modo! Non era questo il mio piano, ok? Devi fidarti di me! Tu devi credermi! Lo sai, c'è abbastanza posto per te e Barovski all'inferno! La prossima a sinistra! Gira la prossima a sinistra! La! Per lo meno abbiamo preso due droni! Aghi! C'è ancora tempo! Puoi aiutarci a trovare il droni! Aghi, fai silenzio! Ti prego! Barovski mi ha imbrogliato e ricattato! Neanche Orlov dei servizi russi ha capito cosa stava scatenando con lui! Non sarebbe dovuta finire così! Non sono d'accordo con il piano di Barovski! Allora non farlo! Nessuno ti obbliga! Sì, invece... Vedi quella porta? C'è quello che cerchi! Aghi! Non vorrei proprio farlo! Che cos'è? Che posto è questo? Questo... Questo... è la soluzione! Aghi! Sono qui! Aghi! Stai bene? Aghi, Michelli, stai bene? Cammin si è morto! Voleva mostrarmi qualcosa! Cazzo! Vai, vai, vai! Straton, sono in una rimessa per autobus fuori da Kandamertretta! Spinks! Localizza il cellulare di Aghi! È a Canal Street! L'ho trovata! La rimessa di Canal Street! Quattro uomini! E Barovski! Moina fulle! Quattro uomini! Vedo il drone Ripeto, vedo il drone Ci stiamo muovendo Andiamo, forza, muoviti, su, su Forza, abbi, aiutati a trovarti Dacci qualcosa Akimi, devi dire dove sei Un segnale stradale, qualunque cosa riconosci Edifici, monumenti Forza, abbi, darci qualcosa Trafalgar Square, colonna di Nelson È pieno di autobus Aspetta, ho un'idea Guarda se riesci a vedere il mio flash Spinks, quanto è vicino l'autobus? È vicino, il segnale è sopra il vostro Eccolo lì L'autobus numero nove, là in fondo Ok, trovato, lo seguiamo Ok, le abbiamo vista Eccolo l'autobus numero nove, là in fondo Spinks, li seguiamo nel parco Invio unità, tempo stimato quattro minuti Questo è il posto migliore per colpirlo Qui c'è meno gente Siete autorizzati all'ingaggio Attacchiamo 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 Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. 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 Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Sì.